Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vi parlerò di Camera FV5, un'applicazione per Android che ci permette di sfruttare al meglio la nostra fotocamera. Allora, la trovate sul Google Play Store ad un prezzo di 2,99€, quindi nulla di eccessivo. Esiste anche la versione Lite, quindi gratuita, però appunto come dice la parola Lite sarà una versione senza troppe impostazioni. Quindi io vi consiglio di acquistare la versione integrale. Allora, partiamo dall'interfaccia che è molto ricca. Allora, intanto in basso abbiamo l'esposizione, quindi possiamo aumentare o diminuire e in base a questo cambierà il tempo di scatto. Abbiamo il tasto di scatto, appunto adesso ha scattato la foto. Abbiamo la possibilità di mettere a fuoco dove tocchiamo. Se impostiamo appunto questo, possiamo dire di toccare qua, di mettere a fuoco qua o là. Insomma, ma questa messa a fuoco dipende dal vostro smartphone se la supporta. Poi abbiamo la messa a fuoco infinito, quindi significa che metterà a fuoco un po' tutto sfocando da vicino. Poi abbiamo il rilevamento dei volti, la messa a fuoco macro e appunto la messa a fuoco sul punto, la messa a fuoco automatica, quindi sul punto centrale. Oppure possiamo mettere a fuoco qualcosa, ad esempio mettiamo a fuoco, scusate, la mia mano, se ci riusciamo. Non è messa molto a fuoco, ok. Blocchiamo. F L, A F L vuol dire A F Lock. Quindi significa che rimarrà messa a fuoco solamente il punto che gli abbiamo detto prima. Ora, se voi guardate sopra abbiamo dei valori, ad esempio F2.6 che è l'apertura del vostro obiettivo nel telefono, rimane così, non la potete variare. Dipende dall'ottica che avete montato sul proprio smartphone. Il tempo di scatto, questo lo potete variare in base all'esposizione. Se andrete ad aumentare, più 2, e scattiamo una foto, abbiamo scattato a un sessantesimo. Se invece diminuiamo, mettiamo a meno 2, avrà scattato a un 793. Questo cosa significa? Che se volete una foto più scura, però scattata più velocemente, quindi se dovete prendere ad esempio un soggetto in corsa, conviene impostare meno 2, sacrificando luminosità, ovviamente però se siete all'aperto. E quindi avete tanta luce a disposizione. Se invece avete la possibilità di tenere il telefono su un cavalletto, su un supporto, ed è sere, volete scattare una foto che ha molta luce, dovrete impostare al massimo più 2. Quindi scatterà più lentamente e la foto gli verrà più mossa, però ovviamente se il telefono è fermo, la foto non risulterà mossa. Abbiamo la possibilità di impostare l'ISO. L'ISO ci serve per sempre gestire la luminosità. Però cosa succede? Con ISO 100, che è il valore più basso in questo caso, abbiamo una foto meno luminosa, però con una qualità maggiore. Più aumentiamo l'ISO, in questo caso ISO 1600, più rumore ci sarà nella foto. Quindi, diciamo, la qualità andrà a peggiorare. Con questo Nexus 4 sono riuscito ad arrivare a ISO 6400, se non sbaglio, in automatico, mentre qua il programma mi dà fino a ISO 1600. Non so se sia un problema con questo telefono, ho un bug di questo programma e ci permette di utilizzare fino a ISO 1600, che comunque già è ottimo. Comunque, se non volete gestire l'ISO, potete impostare su automatico e farà tutto da solo. In questo caso scattiamo la foto, tutto in automatico, bene o male, e ha usato ISO 100 a un ventesimo di secondo. Un ventesimo di secondo, tanto il telefono è fermo, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Qui sopra, 4279, sono le foto che possiamo fare. Qua abbiamo il tasto per il flash, flash automatico, flash forzato, flash disattivato, flash continuo, nel senso che è sempre attivo. E infine abbiamo SL, Slow Sync. Cosa significa? Che se vogliamo fare una foto ad un soggetto con uno sfondo al buio, ad esempio magari siete in un parco e volete fare una foto ad una persona, ma volete prendere anche gli alberi dietro, cosa succede? Se mettete il flash, la parte di dietro verrà totalmente oscurata. Se mettete Slow Sync, cosa significa? Che il telefono scatterà un po' più lentamente, quindi magari a un ventesimo di secondo. Però cosa succede? Che prende a luminosità per regolare lo sfondo, però avete anche il flash che vi illumina la persona. Comunque in genere questa impostazione viene utilizzata con le reflex o con le macchine più professionali, col telefono, non so fino a che punto si possono avere dei buoni risultati. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco, stessa cosa del fuoco, abbiamo la possibilità di bloccare la messa a fuoco e qui abbiamo la possibilità di bloccare il bilanciamento del bianco. Quindi se abbiamo un'immagine bilanciata e la vogliamo lasciare in tale maniera, blocchiamo così e lui anche se rimetterà a fuoco non si ricalcolerà il bianco. Ovviamente abbiamo la possibilità di sette automatico, nuvoloso, sole, fluorescente, insomma se voi vedete qua a sinistra sono colori più caldi, verso destra più freddi. Appunto se noi impostiamo questo abbiamo più un azzurrino, se impostiamo questo abbiamo un colore molto più caldo. Però in questo momento vi garantisco che l'auto white balance è la migliore scelta. Poi abbiamo l'esposimetro, l'esposimetro calcola l'esposizione, noi gli possiamo dire come e dove la deve calcolare. Questa qua è un calcolo bene o male su tutta l'immagine, ovviamente regolandosi anche sul centro dell'immagine. Questa invece calcola solamente la zona centrale, questa solamente un punto che gli diciamo noi, quindi io ad esempio tenuto schiacciato qua gli dico che voglio che l'esposizione se la calcola su questo punto. Come vedete qui è più luminoso, se io invece gli dico calcolamela su questo punto questa parte più luminosa verrà sovraesposta ma metterà correttamente la luminosità su questa zona. Se no abbiamo appunto il punto centrale e oppure questo che vi ho appena fatto vedere. Ovviamente come le altre impostazioni possiamo bloccare l'esposizione in un determinato punto, quindi anche se poi spostiamo il telefono e rimettiamo a fuoco non ci saranno problemi. Poi abbiamo questo menu che ci permette di scattare foto in sequenza, ma questo dipende sempre dall'hardware del vostro telefono. Se il vostro telefono non supporta lo scatto multiplo, magari scatta lentamente, non dipende dal programma. Abbiamo poi l'impostazione di autoscatto, che sappiamo tutti cos'è. Oppure abbiamo la possibilità di dirgli, di scattare un numero di foto e l'intervallo entro quando le deve scattare. Una sorta di timelapse. Però io sconsiglio di utilizzare come timelapse questa applicazione perché consuma molta batteria. Quindi se noi lasciamo il telefono così, possibilmente tempo o un'ora riesce a scaricare tutto. BRK. BRK è l'esposizione variata a forcella. Che cos'è questa cosa? Noi gli possiamo dire di fare ad esempio 3, 5, 7 foto e queste foto come devono essere scattate. Regolando l'esposizione. Come vedete appena io clicco più, queste qua sono il numero di foto. Vuol dire che scatterà una foto a questa esposizione, una a quest'altra e così via. Questo è il massimo, a intervalli di 0,5. Se invece vi metto intervalli di 0,2 significa che è molto ristretto. Così noi poi al computer o sul telefono stesso possiamo vedere quale foto è stata scattata meglio. Magari l'impostazione migliore che volete provare sarà quella là con 3 foto e con 0,2 o 0,3. Così per non variare di molto. Li disabilitiamo scatto multiplo. Poi abbiamo la possibilità di scattare in questo momento in program oppure in questo caso su S. In S abbiamo la possibilità di impostare i tempi di esposizione. Però dipende dal vostro telefono. Ad esempio con il Nexus 4 non sono riuscito effettivamente a impostare un tempo di 5 secondi. E quindi ho gestito bene o male sempre l'esposizione da cui mi sono regolato il tutto. Quindi dipende dall'hardware del vostro telefono e dalla vostra fotocamera. Rimettiamo su P e andiamo nelle impostazioni. Allora le impostazioni sono molto ricche. Iniziamo impostazioni generali. Abbiamo la risoluzione. In questo caso la risoluzione massima è di 8 megapixel. La risoluzione è di esposizione lunga. Quindi quando impostiamo la modalità S possiamo impostare in questo caso fino a 1280x7,20. Ora possibilmente all'aumentare dei megapixel del vostro telefono potrà scattare a una risoluzione più alta. Io ho fatto delle prove con tutti i telefoni da 8 megapixel. Quindi Galaxy S3, LG G3 Mini, anzi G2 Mini scusate, Galaxy S2. Ho fatto delle prove con telefoni che hanno tutti 8 megapixel e mi dà sempre questa impostazione. Che è poco utilizzabile. Perché se riuscite effettivamente a scattare magari a 5 secondi e riuscite a catturare molta luce, a 1280x7,20 è una risoluzione troppo bassa. Possiamo visualizzare l'ultima foto e quindi abbiamo un tempo di revisione. Possiamo impostare la messa a fuoco prima di scattare. Consenti di scattare. Se è disattivato la foto non verrà scattata se non è messa a fuoco. Antibanding è più che altro per i refresh della luce. Voi potete lasciare in automatico così non avete problemi. Potete impostare se riprodurre il suono della fotocamera. Però non tutte le fotocamere riescono a disattivare il proprio volume. Quindi in caso potete mettere alto, medio, basso. In questo caso io sono riuscito a disattivarlo. Potete utilizzare i tasti volume. Li potete impostare come tasto di scatto. Che secondo me è una cosa molto comoda. Perché se vi volete fare il famoso selfie invece di utilizzare la camera anteriore potete utilizzare quella posteriore. Senza andare a cercare il tastino sullo schermo schiacciate sul tasto del volume. Poi abbiamo queste mantieni impostazioni. Sono appunto delle compatibilità con dei telefoni. Questo qua è appunto per impostare il BRK. Selezionare questo se la funzione BRK produce foto con la stessa esposizione. Durata della pausa fra le foto. E rimetti a fuoco prima di scattare con la sequenza BRK che vi ho spiegato prima. Poi andiamo su impostazioni codifica foto. Abbiamo la possibilità di salvare in JPEG o in PNG. Il PNG è un formato molto meno compresso rispetto al JPEG. E allora poteste dire che è bello. Abbiamo delle foto migliori. Anche perché il Nexus le scatta a circa 2 MB con la fotocamera normale. Con questa a JPEG 3,5 MB. E col PNG arriviamo a 10 MB. Ora vi farò vedere degli esempi. Ma vi garantisco che non è cambiato assolutamente niente. Io non capisco il motivo visto che c'è minore compressione. Ma col PNG non abbiamo un guadagno di qualità. Abbiamo un piccolo guadagno di unità infinitesimale. Se utilizziamo questa fotocamera al posto di quella di base. Ma stiamo parlando veramente del pelo nell'uovo. Qui abbiamo la qualità del JPEG. Quindi se volete scattare le foto a piccole dimensioni potete impostare magari 75. Vi verrà sgranata. Però magari occuperà pochissimo. Quindi se la dovete mandare a qualcuno per email con l'anteprima. Poi possiamo impostare la qualità delle anteprime. Non ci interessa. Possiamo impostare la posizione del salvataggio. In automatico lui lo salva nella cartella camera FV5. Io l'ho reimpostato nella cartella normale fotocamera. Possiamo impostare anche il nome della foto. Magari possiamo mettere camera FV in modo per differenziarle dalle altre. Includi tag orientamento delle foto JPEG. Va bene correzione e rotazione. Non vi interessa. A meno che volete che vi corregge sempre la rotazione delle immagini. Ma io non penso proprio. Impostazione dei parametri. Quindi possiamo dirgli come devono essere scattate le foto. Il contesto saturazione e nitidezza. Occhio però con questi settaggi. Perché magari li dimenticate. Li fate per uno scatto. Poi fate un altro scatto. E vi vengono delle immagini molto brutte. Abbiamo il canale colori RGB. Oppure possiamo mettere bianco e nero. Ovviamente possiamo incorporare i metadati. Che sono tutti i dettagli delle foto. Quindi con che cosa è stato scattato. Il tempo di esposizione. Eccetera eccetera. JPEG. Se vogliamo impostare la località. Mirino. Possiamo dirgli come deve essere impostato il mirino. Quindi schermo largo. L'anteprima dell'immagine era adattata alla larghezza dello schermo. Se io la levo. Come vedete. Ci sono le bande laterali. In questo caso le elimina. Non spegnere lo schermo quando la fotocamera è attiva. Questo significa che se voi la lasciate un attimo. Andate di là. La ritroverete accesa con la batteria dimezzata. Quindi levate questa spunta. Luminosità dello schermo. In automatico questo programma avrà questa spunta. E quindi la luminosità sarà al massimo. Io vi consiglio di levarla in modo che ve la gestite voi. Nasconde l'ombra dietro la barra ai parametri in basso. Qua sotto c'è una piccola ombra. Se la vedete. E la nasconde. Visualizza compensazione esposizione e impostazione di esposizione a forcella. Questo per le impostazioni BRK. Visualizza parametri apertura tempo e esposizione ISO. Quindi quelli che vi ho fatto vedere prima. Se noi clicchiamo qua come vedete qua sopra scompaiono. Visualizza il numero di foto in attesi salvataggio sulla scheda SD. Lasciamo tutto. Lasciamo tutte queste impostazioni. Poi se invece siete magari dei professionisti. Volete avere gli istogrammi. Si possono impostare. E quindi avremo gli istogrammi. Come vedete funzionano. Non sono solo un piccolo disegnino. E andiamo a vedere le ultime impostazioni. Leviamo gli istogrammi. Tipo di istogramma. Vabbè lo possiamo impostare RGB o luminanza. Dimensioni istogramma. Stile istogramma. Griglia di composizione. Possiamo impostare questa griglia. Come vedete noi la stiamo impostando in tanti modi. Un quarto. Mirino normale. Oppure nessuna. Spesso è la griglia. Magari mettiamo più grosso. Magari un quarto. Come vedete le linee sono molto fitte. Queste linee vi possono servire per capire se effettivamente l'immagine è dritta o meno. Ad esempio vediamo ora la fotocamera. La possiamo allineare a questa linea. Ok. Mirino. Guide ritaglio. Ok. Come vedete abbiamo tantissime impostazioni. Ma questo tipo di impostazioni magari non interessano a molti. O comunque sono molto semplici e nulla di particolare. In genere i telefoni ci sono. Ma è una griglia di base preimpostata bene o male come ho messo questa. Bene. Queste sono tutte le impostazioni del programma. E cosa vi posso dire? Che a mio parere è la migliore applicazione come fotocamera disponibile per Android. Almeno fino ad oggi sono riuscito a trovare solamente questa che mi permette di utilizzare tante impostazioni. Ovviamente se state cercando un'applicazione che vi permette di scattare le foto sul momento punto e scatta. Questa non è assolutamente l'ideale. È meglio utilizzare quella di base oppure tante altre che ci sono sul Play Store. Bene. Questo è tutto. Se avete domande, dubbi non esitate a commentare. Questo è tutto da S-Video.